Vi presento stasera Arlupa, sono Laura Anticchi, è una piattaforma di realtà aumentata che offre molte opportunità di sperimentazione e di creazione, sia utilizzando funzioni nel sito integrate con la visione da smartphone, sia utilizzando le app disponibili per Android e iOS. Scarichiamo per prima cosa l'app per il nostro dispositivo, sia esso Android o iOS e andiamo ad esplorare subito il sito. Arlupa.com si presenta così e vedete che abbiamo un menu, dice chi siamo, le app di Arlupa come vedete dall'App Store e dal Google Play, i progetti, i marcatori, i clienti, i partner, i contatti e Arlupa Studio. Volevo quindi guardare le varie funzionalità disponibili, innanzitutto vediamo che vengono nominati vari servizi e quello che ci porta a scaricare le app sui nostri dispositivi di Arlupa. Questa, beh vabbè, ok, download quindi che fa vedere insomma come si in azione Arlupa e quindi abbiamo il download qui per Android, download e poi possiamo vedere le app VR e lo sviluppo di di giochi e Arlupa Studio. I prodotti, poi chi siamo, i progetti interessanti, i progetti di AR, quindi dice che questi progetti nascono dalla collaborazione con privati, marchi, agenzie pubblicitarie creative, musei, scuole, città per proprio la creazione di contenuti, esperienze visive, scoperte di augmented reality, educative e divertenti. vedete qui i vari marker relativi ai prodotti. Poi abbiamo anche i marcatori di Arlupa, sono questi, li possiamo anche vedere vedere ad esempio subito in azione, scegliamone uno sperando che ci funzioni, quindi prendiamo dopo aver scaricato l'app sul nostro dispositivo, adesso alzo il dispositivo per farvelo vedere, ecco, il mio dispositivo è questo, quindi vado ad aprire dal Play Store Arlupa, come vedete che ho scaricato, comunque Arlupa App, apri, mi trovo, questa è l'interfaccia di Arlupa sul mio smartphone e posso fare, utilizzando la funzione che vedete qui di scanner, posso scannerizzare una di queste immagini, quindi vado ad ad attivare scanner, punto su una di queste immagini, marcatore, ci mette un po' naturalmente a scaricare l'immagine, beh, forse arriva, sentiamo un attimo, ecco, 44%, attendiamo, dipende tutto poi dalla connessione, dal momento della giornata in cui ci si connette con i dispositivi, comunque vedete che sto puntando sull'immagine con il mio smartphone, dopo aver attivato, lo ripeto, l'applicazione e non sono andata in 3D Gallery, ma sono andata in scanner, sono al 73%, quindi 76%, forse ci arriviamo, adesso va un po' più veloce e vediamo che cosa ci propone, che cosa succede ci siamo quasi ok e vedete che qui ho questa 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 che suona posso girando nella lo smartphone nella stanza cliccare su questa icona e girando con il computer dovrei poter vedere poter vedere poter vedere la quella che suona ma vediamo di fissarla di nuovo facciamo ecco forse c'è troppa poca luce eccola la ecco è andata eccola qui e vedete che ho la possibilità comunque di inserirla come realtà aumentata nella nell'ambiente nel mio ambiente ok questa è l'immagine posso anche una volta che l'ho visualizzata sul nell'ambiente nel mio ambiente questa è l'immagine posso pure fare un video ecco questo è un marker predisposto da Arlupa per creare realtà aumentata schermo il video e vedete che ho quindi realizzato questa registrazione questa registrazione che adesso fermo ok e che posso andare a salvare con share posso con share condividere su in whatsapp sui social inviare per gmail il il in modo da farla vedere quindi per raccontare una storia ad esempio scorrendo poi in basso nel sito troviamo i progetti virtual reality come vedete sono abbastanza interessanti comunque da vedere ad esempio ci possiamo collegare a questa la camera egiziana egizia con lo smartphone aspettate che faccio risalire lo smartphone ok con lo smartphone vado a puntare aspettate che lo sposto un attimo vado a puntare su a questa camera egiziana faccio scanner ok non 3d quindi non 3d come abbiamo visto prima ma scanner ecco vedete che me lo scannerizza e vado a collocare ad esempio qui la camera egizia ecco che è questa posso avvicinare poi posso anche come prima creare un video ho creato la camera egizia nel mio laboratorio che bella ecco chiudo ho creato la camera egizia nel mio laboratorio ecco fermo e poi poi con share vado a condividere se desidero l'elemento da me creato ok ok vedete ecco questo per quanto riguardi così con le altre applicazioni vediamo ora tra i marcatori di Arlupa un marcatore molto simpatico che è quello del pesce cane punto con aspettate che vado indietro punto con lo scanner sul pesce cane ok attivato vado in un punto della stanza clicco sull'iconcina giro e vedrete comparire il proprio il pesce cane eccolo 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 che arriva questo è il pesce cane la solito modo posso fare un video questo è il pesce cane mio amico che ogni tanto ritorna a trovarmi chiudo questo è il pesce cane mio amico che ogni tanto ritorna a trovarmi posso condividere naturalmente come ho fatto prima o a su whatsapp sui social o a salvare mandare per mail eccetera 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 ecco qua anche questo è molto carina come proposta ritorno indietro ok ora ritorniamo un attimo al sito perché volevo farvi vedere altre cose quindi riassumendo il sito permette l'integrazione con lo smartphone attraverso i marcatori del sito i marcatori questi e poi i progetti VR e mi dà la possibilità di avere augmented reality abbastanza funzioni abbastanza proprio simpatici quindi già potete vedete potete raggiungere tanto i progetti quanto i marcatori dal menu in alto e c'è la possibilità anche di accedere a Arlupa Studio però Arlupa Studio che sarebbe molto interessante beh presuppone un piano e quindi c'è un free trial che magari successivamente attiveremo per vedere le funzionalità e poi ci sono degli abbonamenti individuali o per l'education il business government eccetera ecco noi preferiamo in questo momento utilizzare le funzioni del free però pensando anche di poi sperimentare anche Arlupa dal punto di vista proprio della creazione delle esperienze marcatori per creare realtà aumentata andiamo ora a vedere l'applicazione non nell'integrazione con il sito ma l'applicazione in sé che abbiamo scaricato sul nostro dispositivo e vedete che presenta diverse possibilità educazione dinosauri ruse art intrattenimento animals the matrix cultural heritage and history games and caratter virtual tour Halloween science and technology humanoid poi share love fashion cars and vehicles architectural weapons and the military furniture and home food industrial covid 19 nature of package e my model allora vediamone alcune di queste applicazioni alcune di queste saranno free e altre invece a pagamento andiamo a vedere education e vedete che ho il la possibilità di avere diverse diverse applicazioni da vedere e guardate che quelle gratuite sono quelle senza targa come vedete e altre hanno l'unlock with e danno un po' di pubblicità quindi bisogna stare un po' anche attenti se si propongono gli studenti alcune sono come questa di Armenian alphabet a pagamento e altre insomma sono a pagamento le vedete che sono contraddistinte dal proprio quel tondo che rappresenta proprio il pagamento vediamo la fisica H2O ok qui mi dice giro magari di quindi muovere il cellulare non è comparso vediamo di ah si perché è andato via ritorniamo indietro ok va bene facciamo un altro eh i planets ok vediamo eh uno gratuito dei planets questo è un ologramma ecco c'è eh comparso quindi questo è un ologramma del dei planets possiamo fare la stessa maniera cliccando sull'icona in mezzo registrare quindi eh questo è un ologramma fatto con lupa chiudo e vado questo è un ologramma fatto con lupa e poi vado sempre alla possibilità di condividere sui social come abbiamo eh fatto prima ecco andiamo indietro ok possiamo scegliere altre cose non i planets eh vabbè andiamo fuori da education possiamo scegliere i dinosauri esempio prendiamo uno a caso questo il primo che è gratuito e quindi anche qui noi giriamo il nostro il nostro smartphone e vedete comparire il dinosauro e poi con lo stesso processo possiamo ecco raccontare una piccola storia sul dinosauro poi ecco visti i dinosauri vediamo solo alcune cose sono comunque tutte da esplorare ok e ce ne sono di molti di molto carini e interessanti eh andiamo a vedere questo ad esempio eh possiamo questo di Atlante vediamo cosa ci fa vedere bisogna girare il cellulare utilizzando quindi la funzione ecco che abbiamo Atlante quindi la statua che possiamo collocare naturalmente da qualche parte e raccontare una mini storia ci sono tantissime altre cose c'erano c'erano le storie di Halloween carine per quanto riguarda il momento di Halloween ecco verrà anche questo quindi dopo aver girato ecco vedete che abbiamo l'ambientazione con Halloween anche qui è possibile raccontare delle delle storie l'intrattenimento insomma ci sono diverse eh possibilità come vedete qui ci sono dei personaggi abbastanza interessanti che possiamo comunque sempre utilizzare anche questo è molto carino come personaggio che ci può aiutare a raccontare qualche cosa a raccontare una storia ecco ecco che compasso quindi è un personaggio in movimento e anche qui possiamo creare un video ciao da dove vieni sei amico di Danilo vieni dallo spazio o ti ha costruito qualcuno ecco ho registrato e posso dopo condividere in questa maniera come ho fatto prima ecco torno e naturalmente indietro cancello e torno indietro ecco esco quindi chiede molto spesso di upgrade premium eh no ho sbagliato ho detto di sì no ecco bisogna stare attenti poi a queste cose qui insomma vi ho presentato per sommi capi l'utilizzo di questa applicazione di realtà aumentata riassumendo che cosa abbiamo fatto abbiamo quindi esplorato questo sito di per la realtà aumentata che si chiama lupa abbiamo visto i servizi che produce i prodotti i progetti che che mette a disposizione e abbiamo visto come si possa interagire con il sito attraverso lo smartphone dopo aver scaricato eh l'applicazione sul proprio eh dispositivo eh abbiamo anche visto l'applicazione dal dispositivo e la possibilità di utilizzarla eh molto velocemente facilmente per creare delle mini storie dallo smartphone abbiamo utilizzato la funzione a 3d per poter visualizzare i contenuti ed è quella attiva e abbiamo utilizzato anche lo scanner per visualizzare i contenuti sul sito lo scanner e per animarli ecco qui vi volevo far vedere di nuovo per finire i contenuti eh presenti e raggiungibili attraverso attraverso lo smartphone tutti questi alcuni sono eh quindi eh pagamento altri sono free e altri sono free e per le 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 le